Quella è Pudgett Sawyer. Ciao! Cameron, giusto? Sì. Come posso esserti utile? Io sono Pudgett. Eravamo nella classe di spagnolo della signora Parker. Ricordi? Ehm, sì. Credo di sì. Hola! Ciao! Che bei tempi! Aspetta! Dove stai andando? Credevo avesse finito. No, scusami. Io, ecco, mi stavo chiedendo... Tu sei un fotografo, giusto? Sì. Allora, l'autolavaggio del Kali Hai è la prossima settimana e... No. Non mi hai lasciato finire? Scusami. Sì, prego, finisci. Ci serve qualcuno che scatti foto per la scuola? No. Ma è una raccolta fondi. Ok, per cosa? La ricerca sul cancro o i senza tetto? In realtà è per il ballo. Ok. Lo trovi divertente? No, anzi direi che è triste. Comunque, buona fortuna. Tu sei nuovo, vero? Sei quella che abita di fronte. Oggi è lunedì. Vieni da un deserto culturale, per caso. Non dirmi che non conosci gli Wednesday. Sì, che li conosco. Hanno fatto quella canzone. No, invece. Non esistono. Me li sono inventati. È la prima maglietta che ho trovato. Chi se ne importa? Sul serio? Sai che potresti farci un bel po' di soldi, vero? Sai che dei soldi non mi importa. Va bene, ma tenere rinchiuso il tuo grande talento, da che ti nascondi? Io ti potrei fare la stessa domanda. Di che cosa stai parlando? Beh, io sto parlando di questo e anche di questo e di queste. No, le ciglia finte no. Uso una colla molto forte. Non è stato divertente. Oh. Marcus, andiamo! Un momento, che ti ha fatto? Credimi, questa sta esagerando. Sta zitto! Mi ha chiesto se volevo bere qualcosa e io ho detto di sì. Poi siamo entrati in una grande sala con un biliardo e ci siamo baciati. Visto? Niente di che. Ma poi voleva di più e io l'ho colpito con una palla da biliardo. Che mi ha fatto male, a proposito. Brutto pezzo di merda. Che c'è? Avanti, non dirmi che è la tua ragazza. No, è mia sorella, brutto idiota. E se ti azzardi a toccarla di nuovo. Vuoi farti sotto? Vuoi farti sotto, amico? Avanti! Fammi vedere. Perché ti sei tolto la camicia? Non lo so. Cristo santo! Quanto ha bevuto? Io non le piaccio, Marcus. A chi? A Sophie. Ho rovinato tutto. No, andrà bene. Se c'è qualcuno che sa recuperare, quella sei tu. Da questa parte. Dai. Dai. Grazie. Ok, ecco. Qui c'è il cestino se ti viene da vomitare, ok? Grazie. 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 Oh Ciao Cameron, io come... Qualcuno mi ha dato una mano Sarei anche venuto a cavallo, ma mi avrebbero arrestato sulla 405 Buon compleanno Non avresti dovuto Ok, va bene, allora me lo dai? L'ho fatto io L'hai dipinto tu Dipingi? In fondo non sai tante cose di me Non so, magari potresti abbassare un po' i toni No, sono dei coglioni e io gli ricordo che lo sono È il mio posto nell'ecosistema No, sono dei coglioni e io gli ricordo che lo sono